Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi abbiamo una notizia urgente per quanto riguarda l'incontro che si tratta da solo 10 ore, che effetto avrà questo qua sui mercati? Bene, ho un indizio per voi e questo potrebbe mettervi in una posizione molto migliore per cercare di anticipare dove andrà il prezzo una volta concluso questo incontro. E quindi ragazzi oggi parleremo di molte molte cose importanti come possiamo vedere e se avete quindi dei bitcoin e se avete delle criptovalute in generale vorrete sicuramente guardare questo video dall'inizio alla fine. E come sempre ragazzi bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano video, guardo i cripto ogni giorno ed oggi ragazzi è il giorno, ragazzi oggi è il giorno in cui vedremo la conclusione dell'incontro appunto e dei prossimi due giorni e sicuramente quando saranno in live stream, cosa che di solito fanno, vedremo una certa volatilità nei mercati. La domanda ragazzi è questa, che tipo di volatilità andremo a vedere e dove finirà il prezzo alla fine della giornata quando le cose si saranno sistemate? Bene, iniziamo parlando appunto del grafico da 4 ore come sempre per capire appunto dove è il prezzo di bitcoin adesso e dove potrà andare. Quindi quello che possiamo vedere appunto in questo grafico è che il bordo della fascia lancione continua ad essere un supporto molto molto forte e ora possiamo anche vedere che ci stiamo avvicinando al bordo superiore della fascia lancione a 38.000 dollari e 600 e questa qua in passato è sempre stata una forte resistenza perché possiamo vedere che abbiamo provato a superare questo livello per un totale di 5 volte in passato ma siamo stati sempre respinti ogni singola volta andando fino in fondo, fino al bordo della fascia lancione. Quindi ragazzi fate attenzione, molte persone hanno teorie diverse proprio adesso, persone che cercano di indovinare e cercano di leggere tra le righe per capire dove andrà il prezzo basandosi sull'annuncio anche che arriverà oggi. E quindi ragazzi sarà molto molto interessante da vedere ma cosa dovremmo guardare adesso quando si tratta di cambiare la tendenza a lungo termine e quando potremo dire di avere questo cambio di trend nel mercato verso l'alto. Quindi forse riusciremo a vedere un bel movimento verso l'alto nel prezzo ma a prescindere ragazzi uno dei grandi livelli di resistenza che abbiamo è proprio questa linea rossa inclinata verso il basso in questo grafico settimanale. E quindi questo qua è qualcosa di cui parliamo già da molto tempo ovviamente lo sapete e inoltre abbiamo anche una linea arancione, questa linea arancione in questo grafico settimanale che va avanti da un tempo più lungo perché se controlliamo questa linea di resistenza risale a più di un anno fa e questo livello è adesso a circa 50 mila o 53 mila dollari e 500 ma possiamo anche vedere quante volte abbiamo provato a superare questa linea in questa tendenza a ribasso abbiamo provato a superarla più volte ma non siamo riusciti a farlo e abbiamo continuato a scendere verso il basso. Quindi ragazzi questi qua sono due livelli molto molto importanti quindi abbiamo questa linea arancione nel grafico settimanale ed abbiamo anche la linea rossa sempre nel grafico settimanale. E quindi stiamo controlando questi livelli invece per quanto riguarda il breve termine abbiamo alcune cose molto interessanti quindi guardiamo il grafico di cui parlavo anche ieri, abbiamo questa formazione, abbiamo questo cugno discendente e possiamo anche vedere nel grafico, meglio nel grafico da 4 ore, questo qua è quello da giornaliero quindi nel grafico da 4 ore possiamo vedere dove siamo adesso in questa formazione quindi è molto molto interessante e se andiamo anche nel grafico giornaliero e controlliamo lo storico di questo grafico possiamo vedere che avevamo una configurazione simile anche in passato siamo usciti da questo modello e poi siamo andati verso l'alto quindi su questo grafico abbiamo uno schema che sembra decisamente molto molto importante ma parliamo di cose più importanti quindi di cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro e che avverrà oggi è quello che possiamo vedere che la possibilità che il mercato sta anticipando è che appunto la Fed alzerà i tassi di 75 punti o dell'1% e inoltre abbiamo anche un piccolo numero di persone che pensa che lo alzeranno anche di più e quindi pensano che lo alzeranno dall'1% all'1,25% che è un aumento piuttosto alto per cominciare quindi non è normale che facciano qualcosa del genere diciamo e ora quello che sto pensando è che se non dovessero alzare gli interessi ad un livello così alto come da questa paura nel mercato forse vedremo un piccolo rally ma a prescindere di cosa accadrà vedremo una certa volatilità la domanda ragazzi è questa dove finirà il prezzo di Bitcoin con il tempo quindi quando guardiamo indietro a circa per esempio due giorni fa se contendiamo appunto i nostri grafici siamo saliti o siamo scesi nel prezzo è normale che vedremo una certa volatilità a breve termine proprio nel momento in cui ci sarà esiterà l'incontro avranno luogo gli annunci vedremo sicuramente della volatilità ma dove andrà a finire il prezzo bene abbiamo un grafico molto importante pubblicato in realtà da Johnny Wu che voglio mostrarvi e quindi se continuiamo appunto il grafico pubblicato da Johnny Wu che ha delineato gli incontri precedenti e dove è andato appunto il prezzo da quegli incontri quindi possiamo vedere appunto questo grafico e penso che sia molto molto interessante da vedere e quello che possiamo vedere qui è che in generale Bitcoin ha avuto una tendenza a ribasso prima delle riunioni in realtà e quindi possiamo vedere che per esempio abbiamo avuto un incontro in questa zona penso che fosse all'inizio o fine di gennaio comunque sia prima di avere quell'incontro Bitcoin era in calo e possiamo vedere che da quell'incontro in poi Bitcoin è salito verso l'alto quindi abbiamo avuto un piccolo rally da questo primo incontro abbiamo anche un secondo incontro che si è svolto a marzo possiamo vedere appunto in questa zona e quello che possiamo vedere qui è che Bitcoin stava andando verso il basso prima dell'incontro ma una volta che l'incontro ha avuto luogo ci sono stati gli annunci in quel caso Bitcoin è salito di nuovo quindi nelle ultime due occasioni queste ultime due volte siamo andati verso l'alto e verso il basso per poi salire dopo l'incontro e anche adesso siamo in un trade verso il basso prima di questa riunione quindi la domanda è vedremo la stessa spinta dopo la riunione proprio come abbiamo visto le due volte precedenti quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo ragazzi ma una cosa che possiamo anche vedere è un altro fatto quindi questa qua è stata una settimana abbastanza decente per esempio questa settimana qui quindi prima del giorno della riunione il che mi porta anche a mostrarvi i nostri ordini di trade a prescindere stiamo tenendo appunto le operazioni aperte i nostri trade a lungo termine ma abbiamo anche intenzione di aprire un piccolo trade su PrimeXBT alcune persone mi hanno detto che i bonus sono un po' bassi in questa exchange ma in effetti potete richiedere fino a 7000 dollari su XBT se usate appunto il link in descrizione quindi assicuratevi di approfittarne se volete ma il trade che apriremo su PrimeXBT che è tra l'altro uno dei migliori exchange al mondo specialmente quando è stata anche di copy trading sono davvero la migliore piattaforma di trading in circolazione per quanto riguarda il copy trading per quelli di voi che non sanno cosa sia il copy trading in sostanza andate a copiare i migliori traders quando fanno i loro trade e siete in grado di anche seguire le loro operazioni quindi potete vedere i risultati di alcuni di questi ragazzi potete vedere il profitto totale e il profitto anche e la perda di oggi per esempio quindi penso che sia abbastanza interessante e questa qua ovviamente è una delle funzionalità più popolari appunto di PrimeXBT e sono davvero i migliori al mondo quando si tratta di questo ma adesso andremo ad aprire un piccolo trade nel caso in cui vedremo una discreta volatilità quindi come possiamo vedere in questo grafico su PrimeXBT possiamo vedere che nel grafico giorno all'era abbiamo due settimane specifiche di cui voglio parlare quindi abbiamo questa settimana proprio in questa zona dove siamo scesi a 34.500$ e dove siamo scesi anche un'altra volta verso i 33.234$ in questa zona e quindi ora se dovessimo vedere molta volatilità cosa che ci aspettiamo allora possiamo forse scendere per poi avere un piccolo rally penso che potrebbe accadere e quindi apriremo un ordine in basso nei punti più bassi di questa settimana non mi aspetto che venga aperto quest'ordine potremmo anche non scendere ma giusto per sicurezza metteremo un ordine in questa zona perché penso che avremo un grande ribalzo da questo livello per fare un piccolo profitto diciamo e quindi questo qua sarà un piccolo trade non mi aspetto che venga aperto proprio come ho detto piazzeremo quest'ordine quindi quello che farò è inserire un limit order in questa zona e possiamo scegliere anche dei diversi tipi di limit order perché possiamo dire che qui abbiamo possiamo tenerlo finché non andiamo a cancellare l'ordine oppure possiamo inserire un limit order che venga annullato in un giorno specifico selezionando questa opzione che è ovviamente molto importante per la volatilità che potremmo vedere oggi ma se non dovessimo vedere una grande volatilità allora l'ordine verrà rimosso quindi apriamo quest'ordine andiamo ad inserire un importo decente e dove sarà appunto il livello di prezzo dove inseriremo quest'ordine quindi fatemi un attimo controllare dove possiamo inserire quest'ordine perché penso che il livello più basso sia 36.584$ quindi questo sarà un trade a breve termine se dovessimo scendere a questo livello l'ordine verrà aperto e prenderemo il profitto molto rapidamente al contrario dell'altro trade che è un trade invece a medio è a breve termine mentre quello di oggi è sicuramente a brevissimo termine per questo stiamo aprendo due trade separati quindi l'ordine è attivo possiamo attivarlo e possiamo vedere appunto che adesso abbiamo l'ordine in basso e vedremo se andremo a scendere fino a questa linea verde per aprire quest'ordine adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale pensate che sarà il punto più alto in bitcoin per questo mese fatemi sapere nei commenti indiviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta di avere il portafoglio una volta soltanto anche se si risponde a più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video e cosa ne pensate? fatemi sapere nei commenti e ragazzi inoltre se volete fare trading su PrimeXBT utilizzando la funzione di copy trading o semplicemente facendo trading regolare avete il link in descrizione per poter richiedere fino a 7000 dollari di bonus e quindi quello che ho per voi ragazzi è questo e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti